Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e a tutti i fan di Daydreamer, volevo semplicemente comunicarvi che la programmazione della SOP turca verrà sospesa, ma state tranquilli, la SOP si fermerà una settimana proprio in occasione della festività di ferragosto, pertanto ecco la programmazione ufficiale, dal 10 al 14 agosto non andrà in onda per poi riprendere il 17 agosto con il nostro consueto appuntamento pomeridiano. L'orario non subirà variazione, dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Adesso una bella notizia tutta per voi, la programmazione della SOP è prevista alla stessa ora fino a metà settembre, con il rientro della trasmissione di uomini e donne la messa in onda di Daydreamer continuerà lo stesso con una variazione sull'orario. Si vocifera anche che verrà trasmessa qualche max puntatona della SOP turca, chissà magari anche in prima serata, ma nulla di ufficiale. La SOP conta circa 152 puntate, quindi ne avremo ancora per un bel po', per appassionarci alle vicende amorose dei nostri protagonisti Gian e Sanem. Io intanto continuerò le mie anticipazioni, quindi non perdetevi i prossimi video. Mi raccomando, in questa settimana che Daydream si ferma, voi non fermatevi, godetevi le vostre vacanze, rilassatevi e divertitevi. Io adesso vi saluto e vi auguro buone vacanze. Bye bye!